Francesco Borgonovo, di certo il giornale di cui tu sei importante dirigente si è schierato in quel sano esercizio del dubbio e del pensiero critico che però spesso è anche arrivato a dei toni di ostilità rispetto alle politiche sanitarie. Non ti senti in questo momento anche alla luce della testimonianza del professor Grio di riconoscere che forse esercizio dei toni poi genera comportamenti sicuramente condannabili come quelli che ci ha raccontato Grio da parte dei suoi pazienti. Noi per esempio non abbiamo mai scritto che i non vaccinati vanno espulsi dalla società, non abbiamo scritto che vanno presi a cannonate come Bava Beccaris, non abbiamo scritto che sono degli untori, non abbiamo scritto che provocano la morte delle altre persone e cose di questo genere, come invece è stato detto da insigni rappresentanti delle istituzioni e anche del comparto medico in questi mesi nei confronti delle persone che non si vaccinavano esercitando un loro diritto riconosciuto dalla Costituzione e dall'Abbias Corpus. A me dispiace molto per il dottore, io però penso che farebbe meglio ad arrabbiarsi invece che con i suoi pazienti con i 40 miliardi di tagli alla sanità fatti solo dall'epoca tra Monti e l'inizio del Covid, i 10,2 miliardi tagliati alla prevenzione che denunciò la stessa dottoressa Salmaso prendendosela ad esempio con Walter Ricciardi che attualmente è ancora consulente del Ministro Speranza e forse dovremmo prendercela con quelli che ci hanno detto che bastava una dose di vaccino perché io capisco l'emotività, però l'emotività non è scienza, visto che tutti noi abbiamo molto cuore alla scienza, la scienza si fa con i dati, allora io guardando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicati di recente ma che purtroppo sono un po' vecchi perché risalgono a fine di novembre e guardando anche quelli degli ospedali Sentinella che sono piccolini, sono solo 16 quindi valgono meno, io vedo che c'è un costante aumento purtroppo anche dei vaccinati sia nelle terapie intensive anche se sono meno, sappiamo, paradosso di Simpson e tutte queste cose, però c'è un costante aumento dei vaccinati, la stessa Fiaso ci dice che nell'ultima settimana c'è stato un aumento del 45% dei pazienti vaccinati dovuto al fatto che dopo un po' dicono loro l'efficacia del vaccino scende, oggi abbiamo paesi che avevano puntato a misure durissime, penso alla Corea del Sud che ha una percentuale di vaccinati sulla popolazione totale, molto più alta della nostra, siamo credo all'81% e 94% del totale della popolazione vaccinabile, che oggi deve rimettere delle restrizioni. Allora noi abbiamo sentito dire per mesi che il vaccino è il santo grale della soluzione e adesso abbiamo l'OMS, le CDC e evidentemente anche Mario Draghi che ci dicono che il vaccino non basta. Allora secondo me abbiamo un grossissimo problema. Non dobbiamo partire dal presupposto che il vaccino non è uno scudo che ci protegge ma allora bisogna, scusate, scusate, posso... Nessuno mi ha detto che era lo scudo, scusami, ma nessuno l'ha mai detto. Non è vero, non è vero perché abbiamo avuto, perdonami, anche perché la prima volta abbiamo avuto in questa televisione Matteo Bassetti che diceva basta una dose, abbiamo avuto un fior di medici che venivano qui, abbiamo avuto insulti costanti a chi rifiutava il vaccino esercitando il suo diritto. Vi prego, io sto cercando di fare un ragionamento con voi molto tranquillo, non ho ostilità verso nessuno, sto semplicemente dicendo riconosciamo che c'è un problema con l'approccio che abbiamo tenuto finora che forse un pochettino quando l'OMS dice sì servono altri strumenti dovremmo pensare magari qualche cura che ci sono, ci sono i protocolli, ci sono le cose pubblicate forse è utile, forse tutta l'attenzione che abbiamo concentrato esclusivamente su questo vaccino senza conoscerne bene gli effetti, perché questa è la realtà nessuno si aspettava, l'ha detto l'altro giorno il Presidente Ministro della Salute la dottoressa Zampa su questa rete, non sapevamo che sarebbe stata necessaria la terza dose capite che c'è un problema, è inutile che continuate a prenderva la coninovazza la storia di questa epidemia è la storia anche delle mutazioni, delle politiche per aggredirla perché il virus cambia, io ti propongo questi dati numeri a confronto, seconda settimana di dicembre nel 2020 avevamo più o meno lo stesso numero di contagi di quest'anno, però guardiamo quanto è grande la distanza tra le terapie intensive e i decessi io penso che questo sia un dato importante professore si arriva a fare quello coinvolgere Maria Teresa Meli e poi sono da lei, Salmaso